Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Gian Paolo Arduini, le principali notizie della settimana a cura dell'Acra, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Per il Partito Democratico la discussione sul capoluogo di Regione è una vicenda chiusa. Nel corso di una conferenza stampa in Consiglio regionale i vertici del partito hanno spento ogni polemica asserendo che non vi è alcun dubbio sulla titolarità dell'Aquila come città-capoluogo. Per il Presidente di Pangrazio il dibattito andrebbe fatto, ma su temi di interesse generale. Io penso che il dibattito che si debba fare è quello del ruolo della nostra Regione, quello che stiamo facendo come maggioranza e come Partito Democratico regionale, di come la Regione debba essere inserita nel futuro all'interno dello sviluppo della Nazione Italia, ma soprattutto sulle grandi linee che l'Europa sta mettendo in campo. Sulla stessa linea il capogruppo del PD che parla di polemiche fatte ad arte per convenienze elettorali. Qui non si sta parlando della visione dei territori, dei problemi dei territori, ma in realtà di lasciare una dichiarazione piuttosto che l'altra per avvantaggiarsi sotto il profilo delle circoscrizioni e delle visioni politiche future e immediate. Tocca Pierpaolo Petrucci ribadire che il PD è unito sull'Aquila-capoluogo al contrario del centro-destra. Sono tentativi pericolosi che noi abbiamo, attraverso un segnale importante che è stato dato oggi in conferenza stampa, voler fermare, almeno come parte politica, era presente tutta la maggioranza, era presente una generazione di governo di questa Regione, che abbiamo una comunanza anche esistenziale e di prospettive, e abbiamo voluto dare un segnale. Cosa analoga non è venuta nel centro-destra, io mi auguro che possa avvenire. Dea di secondo livello tra Chieti e Pescara, Febbo denuncia. Una lettera del direttore generale della programmazione sanitaria sbugiarda clamorosamente l'operato dell'assessore Paolucci. L'anteprima nazionale di cent'anni di veleni, il documentario che racconta la storia del polo chimico di Bussi, si terrà sabato 18 novembre alle ore 18.30 presso l'auditorium Cianfarani di Chieti. Ad annunciarlo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi e Domenico Pettinari, che nel corso di una conferenza stampa hanno presentato anche il progetto Riscattiamo Bussi, il contest di idee che il Movimento 5 Stelle Abruzzo ha deciso di promuovere per la riconversione dell'intera area sin Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara. Il docufilm che abbiamo prodotto soprattutto per recuperare la memoria storica, per non voltarci più dall'altra parte e per non dimenticare, perché troppo spesso abbiamo dimenticato, troppo spesso i cittadini si sono voltati dall'altra parte. Ecco, questo vuole essere un prodotto da far conoscere soprattutto alle future generazioni. Trasporto pubblico. Per il Presidente di Pangrazio è un dovere garantire che i giovani delle aree interne e le loro famiglie abbiano pari diritti e opportunità. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha restituito la città dell'Acrio e il Palazzo Ex-Gil di Via Iacobucci. Al taglio del nastro hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, il Rettore del Gran Sasso Science Institute, Eugenio Coccia, il Sottosegretario all'Istruzione, Vito De Filippo, e l'Ex-Ministro Fabrizio Barca. Ospiti d'onore ai premi Nobel per la fisica Carlo Rubbia e Barry Baris. Nel corso del suo intervento Di Pangrazio è ricordato come in soli tre anni il Consiglio ha messo in moto e concluso il cantiere del Palazzo e oggi lo riconsegna la città mettendo un altro tassello verso la compiuta ricostruzione del capoluogo di regione. Torna a riunirsi il Consiglio regionale, convocato dal Presidente Giuseppe Di Pangrazio per martedì 21 novembre alle ore 11 nell'Aula Spagnoli dell'emiciclo. Torna a riunirsi il Consiglio regionale,